Birra d'Augusto, quest'anno è arrivata alla sua tredicesima edizione, si svolgerà nei giardini Biancheria Morelli e il parcheggio adiacente di via 24 Maggio a Fano, le date sono dal 12 al 16 agosto. Avremo 11 birrifici, 8 dei quali per promuovere il nostro territorio sono tutti marchigiani, 3 invece vengono da fuori regione. Iniziamo da quelli territoriali, abbiamo il birrificio Collesi, birrificio Ialkis, 6100, birrificio dei Castelli, birrificio del Catria, l'Oltremondo, il birrificio Renton e Angeloni. In più, da fuori regione abbiamo il birrificio della Granda, la Brassa e via Alpina e i fratelli Trami. Abbiamo pensato ad un programma generale per tutte e cinque le giornate, dando un nome ad ogni giornata. Quest'anno partiremo il 12 agosto, il sabato, la giornata iniziale sarà quella con la giornata del Mastro Birraio, dove affronteremo una tavola rotonda tra i vari produttori di birra artigianali presenti al nostro evento. Il 13 agosto invece sarà la giornata birra e brodetto. Lunedì 14 invece presentiamo la giornata Luppolandia, dove in collaborazione con la ludoteca Scatolarci e la ludoteca di Pesaro in gioco, andremo a presentare dei giochi da tavolo e un torneo di Bang, in modo da poter condividere la giornata con tutti, ragazzi e non. Il giorno 15 invece sarà la giornata del birra agosto Summerfest, sarà una giornata interamente dedicata alla musica. Il 16 invece, la serata di chiusura, dove avremo comunque sia i ringraziamenti e tutto, sarà la giornata della birra in rosa, denominata così perché sarà una giornata di compagnia tutta dedicata al mondo femminile in rapporto alla birra artigianale. La musica di quest'anno abbiamo riempito il palco con 12 band, anche su 5 giorni, quindi sono tante, e abbiamo cercato di trovare più offerta musicale possibile. Partiamo con il sabato 12 alle ore 19.30 con un duo che fanno musica blues e sono i Barre Laus, per arrivare ai 21.30 con i Radio Com che sono la Vasco Rossi Tribute Band. Il domenica 13 agosto avremo un DJ set sempre a partire dalle ore 19.30 e poi alle 21.30 i Catch the Giant, che è un gruppo che noi ormai abbiamo adottato per la nostra manifestazione perché sono con noi sin dall'inizio. Per quanto riguarda il 14 agosto avremo due bei gruppi, che sono i The Python, che faranno musica agli 80, e i Rusty Finger che fanno vintage rock. Per arrivare al 15 agosto, quindi il nostro birra agosto, parlavamo di musica e abbiamo interamente dedicato alla giornata alla musica, dando quattro gruppi. Quindi partiremo alle ore 18 con il DJ set di DJ Wolf e alle 19.45 avremo i The Glam, che fanno rock. Vorrei passare direttamente alle 22.45 con i Frutti Freschi, che è un gruppo marchigiano ed è un gruppo che farà una spremuta di musica italiana. Ho voluto saltare le 21.15 perché abbiamo una bella novità di cui siamo orgogliosi, la cantautrice fanese e pesarese Raffi farà l'unica data fanese e marchigiana a birra d'augusto. Dopo aver calcato e aperto i concerti di Vasco Rossi in tutti gli stadi, ha deciso insieme al suo manager Roberto Casini di venire a birra d'augusto a fare la presentazione del suo disco, che sta uscendo, si chiama Fashion Rock Live, insieme alla sua band XX Energy. Dopodiché andiamo all'ultima giornata, dove avevamo detto che è la nostra birra in rosa, perché anche qui abbiamo scelto e optato per due gruppi totalmente femminili. e sono Ludo e Greta, che è un duo acustico, per poi concludere con le Rimmel, che fanno anni 60 e anche questo è un gruppo totalmente femminile.